ragazzi siamo sempre qua queste sono l'ultima uscita vediamo un po se troviamo qualcosa questa pineta molto sporca hanno molte braccia però dei animali sanno anche delle carattate vecchie vediamo un po se siamo fortunati è arrivato anche il cuculo guarda un po guarda un po no sono loro si si guarda quant'è bella di quest'anno guarda quant'è bella pure oggi è andata bene via guarda quant'è bella